Sono Alessandro Fucci, consulente tributario, candidato al Consiglio Comunale di Maddaloni. Vi chiedo un voto di fiducia l'11 giugno, candidato al Consiglio Comunale con la lista Cambiamo Insieme del Sindaco Luigi Bove, candidato e uomo di fiducia di tutto il territorio di legalità della città di Maddaloni. Vi chiedo, vota per te, vota solo e soltanto per te, basta con questi voti soltanto di piaceri e di promesse inesistenti. Vota per te e solo e soltanto per te. Alessandro Fucci, Consiglio Comunale, 11 giugno 2017